ciao benvenuti a menti taro oggi vediamo i simboli relativi agli animali reali e fantastici che sono presenti nei tarocchi rider with smith sono tanti come vedete queste sono tutte le carte che hanno degli animali reali o fantastici e credo che sia utile saperli sapere il loro significato perché può aiutare appunto la comprensione più intuitiva del mazzo dei tarocchi sono anche simboli che si possono trovare in altri tarocchi che riprendono appunto la simbologia del rider with smith qui è molto facile che ritroviate anche tra occhi più moderni dunque io inizierei con il simbolo del cane che si trova molto spesso in questo mazzo vediamo che si trova innanzitutto quello più famoso è nel matto vedete questo qua e poi lo trovate nella luna ed è questo qui e poi lo trovate nel 10 di denari qua come completamento di tutta la famiglia il cane in generale in questo mazzo indica appunto una persona una energia amichevole un aiuto che viene in soccorso infatti per esempio nel 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 matto indica appunto sta cercando di aiutare il matto che sta andando verso un possibile precipizio invece nella luna è in contrapposizione all'altro animale che adesso vediamo che è il lupo qua quindi lupo indica la natura più selvaggia mentre quella del cane in questo caso quella più ammaestrata quindi diciamo quella c'è una contrapposizione tra la parte diciamo più razionale e quella più più intuitiva rappresentata dal dal lupo in questo caso nella carta della luna che è molto complessa possiamo vedere anche il gambero che è in questo caso un simbolo del subconscio che sta avanzando vedete questo cancro questo gambero sta andando questa questo cammino tra le torri no quindi come se affiora dall'inconscio che è rappresentato dall'acqua e sta emergendo quindi sono diciamo rappresenta un messaggio da parte del dell'inconscio un risveglio della conoscenza che noi abbiamo nel nostro inconscio poi un altro animale che abbiamo il coniglio nella regina di denari vedete qua al lato che è un simbolo di fertilità come è un simbolo di fertilità la capra che sul trono della regina di denari perché appunto la regina di denari è un po come la madre terra no quindi nutre l'ambiente circostante invece per quanto riguarda il re di denari invece sul trono abbiamo il simbolo del toro perché il toro è legato all'elemento all'elemento terra quindi l'elemento dei pentacoli dei denari un altro animale che abbiamo sotto il piede dell'armatura del re di denari è la tartaruga non so se la vedete qui sotto il piede la tartaruga indica saggezza fondamentalmente perché ha un passo lento ponderato e quindi sta ad affermare che il l'energia del re di denari è un'energia lenta ponderata però corazzata e sicura tant'è vero che lui ha l'armatura e la tartaruga pure dunque poi un altro animale molto frequente nei tarocchi è quello il cavallo perché tutti i cavalieri qui prendo quello di denari ma tutti i cavalieri sono appunto a cavallo e nei cavalieri indica appunto azione forza energia intraprendenza però ci sono altre tre carte dove si trovano i cavalli nel 6 di bastoni dove indica successo status sociale no perché un po come punto il guerriero che torna cavallo vincente e status sociale un po indica anche qui quella del sole perché di solito è una carta di successo tanto è vero che c'è questa anche questa bandiera rossa che indica comunque successo vittoria quindi in generale anche nella carta del sole il cavallo indica comunque potenza potere il sole anche la carta dell'ego quindi insomma affermazione di sé ecco l'ultimo cavallo che abbiamo nei tarocchi è quello della morte perché richiama appunto i cavalieri uno dei cavalieri dell'apocalisse no quello bianco che appunto l indica la morte la distruzione quindi in questo caso ha un significato diverso di fine appunto legato alla carta della morte poi volevo parlare dei pesci che si trovano in tutte le le figure di corte della delle coppe addirittura qua il pagino esce dalla dalla coppa un pesce mentre nel cavaliere sono disegnati qui nell'armatura e invece i pesci si trovano anche nelle acque soprattutto nell'acqua ecco soprattutto qui con il re di di coppe si trovano nell'acqua che lo circonda beh i pesci sono figure che indicano idee intuizioni che appunto salgono dall'inconscio perché l'acqua rappresenta l'inconscio quindi soprattutto il paggio di coppe indica creatività un'intuizione un segno intuitivo a cui di cui dobbiamo tenere tenere conto poi abbiamo la regina di bastoni che ha questo gatto che indica un potere intuitivo un'abilità psichica ed è l'unica figura con con il gatto poi abbiamo il leone che indica istinto passione no si trova anche nella carta della forza che indica appunto la forza brutta la forza più passionale che nella carta della forza va tenuta sotto controllo con un approccio più più razionale poi abbiamo la salamandra che si trova nelle altre figure di corte dei dei bastoni invece sono questi disegnini sul vestito del cavaliere sono come delle lucertole però in realtà sono salamandre qui nel paggio e qui ai piedi del del re di bastoni che sono gli spiriti elementali legati al fuoco per questo sono raffigurati in queste figure di corte dei dei bastoni poi invece per quanto riguarda l'elemento aria abbiamo la farfalla e gli uccelli che si trovano nelle figure di spade qui abbiamo degli uccelli lontananza anche qui abbiamo degli uccelli lontananza qui qui abbiamo sul trono il simbolo della farfalla e anche qui il simbolo della farfalla insieme al all'uccellino in lontananza e sono tutti questi questi uccelli queste farfalle legati i simboli dell'elemento aria nel caso delle spade indicano gli uccelli una un'idea di di libertà di pensiero libero no perché le spade sono legate l'elemento del pensiero e quindi anche la la farfalla indica proprio legata all'elemente aria quindi all'elemento della della libertà altri uccelli nei tarocchi si trovano nella carta delle stelle dove abbiamo l'ibis lo trovate qua e indica ed è legato al al dio di dio tot egizio o greco ermes che è appunto legata diciamo alla filosofia ermetica che un po è la base dei tarocchi e poi lo abbiamo il falcone nel 9 di denari in questo caso indica soprattutto un obiettivo un falcone o il falco è un uccello che punta l'obiettivo lo raggiunge e quindi sicuramente legato al 9 di pentacoli indica proprio l'indipendenza raggiunta l'obiettivo raggiunto poi un altro uccello che devo rivedere qua devo ritrovare che non ho messo è questo ed è la colomba che si trova nell'asso di coppe vedete questa in cima l'asso di coppe che la colomba della pace è una specie di spirito che che si abbevera l'acqua del calice dell'asso di coppe questo calice in particolare richiama molto nel rider with smith il calice nel santo graal quindi è un po anche un simbolo volendo di spiritualità religiosa ecco poi abbiamo sempre nel 9 di denari una lumaca che non so se la notate è questa qui ai piedi e sta un po indicare che questo successo che sta godendo questa signora in questo giardino si può ottenere soltanto con pazienza calma e sforzo perché la lumaca no è una figura che cammina lentamente volendo ci mette molto raggiungere alcuni obiettivi quindi insomma bisogna essere determinati come il falcone però appunto anche determinati e pazienti questo indica questa piccola lumaca nel nel 9 di pentacoli poi abbiamo il serpente che un altro animale che è molto frequente in questo mazzo e abbiamo il serpente nel mago che è questa cintura che ha e che indica in generale saggezza perché il serpente è un simbolo di saggezza ed è il serpente diciamo della conoscenza no qui nel negli amanti attorcigliato all'albero della conoscenza e quindi un po della tentazione o comunque della della saggezza profonda perché queste due figure sono adamo ed eva e poi abbiamo in questa specie di caduceo che è il simbolo di ermes con questi serpenti attorcigliati che poi hanno le leali e che è semplicemente un richiamo sempre comunque al dio ermes 88 che è il dio della della saggezza appunto della della conoscenza esoterica soprattutto poi un altro serpente si ritrova qua nella ruota della fortuna vedete qua in questo caso è più che altro tifone il simbolo di tifone che è un protagonista di un mito greco che poi veniva sconfitto in una battaglia con zeus e buttato nel nell'inferno greco che è il tartaro e indica probabilmente la il declino della fortuna quindi diciamo la fortuna avversa ecco in questo senso poi un altro serpente nel 7 di coppe che devo prendere mi sembra eccolo vedete qua in una delle coppe e queste coppe come sapete rappresentano un po tutte le opzioni tutti i desideri le ambizioni questo personaggio in questo caso il serpente indica la conoscenza la saggezza un po come il fausto no che era tentato dal diavolo perché voleva avere la conoscenza dunque abbiamo finito gli animali diciamo reali e adesso passiamo a quelli più fantastici abbiamo dunque innanzitutto il drago che è qui sempre nel set di coppe vedete qua e di solito il drago leggende sempre legato a un tesoro quindi probabilmente è uno di quei desideri che indicano appunto tesori nascosti oppure può essere anche un desiderio di vendetta appunto come una forza primordiale ecco una delle opzioni di questo personaggio del set di coppe poi abbiamo la chimera che questo personaggio in cima questa specie di caluceo che in realtà ha tre è un animale mitologico di origine etrusca che parte leone parte aquila parte capra qui abbiamo soltanto le ali dell'aquila e la leone probabilmente indica anche qui una forma di di amore che non ha che non ha fine considerato che sta in cima al 2 di di coppe poi abbiamo la sfinge che si trova sia su nel 10 la ruota della fortuna che nella carta del carro dunque nella ruota della fortuna indica diciamo mistero da risolvere o un mistero che è difficile da conoscere no perché la sfinge colui colei che dava indovinelli da da risolvere quindi può cioè implica che nella ruota della fortuna appunto la nostro destino nostra fortuna non è dato essere conosciuto e comunque di difficile conoscenza mentre qui indica appunto una specie di rebus da risolvere la carta del carro perché indica due direzioni opposte tra cui scegliere e poi abbiamo la nubis che è sempre nella ruota della fortuna che a questo personaggio qua sotto la ruota che è una forma un attributo sempre del dio tot o ermes e quindi indica saggezza conoscenza coscienza di se stessi mettiamola così ecco e poi abbiamo l'angelo dunque noi abbiamo vari angeli nella carta dei tarocchi diciamo sono arcangeli abbiamo nel nella carta degli amanti l'abbiamo nella carta del giudizio dunque questi sono tre arcangeli per quanto riguarda il 6 ovvero la carta dei diamanti abbiamo l'arcangeli raffaele nella temperanza abbiamo l'arcangelo michele e nel giudizio abbiamo l'arcangelo gabriele l'annunciatore e poi infine abbiamo bafometto che è questo rappresentante della carta del diavolo no realtà questo deriva da un disegno di levi che è stato ripreso che appunto disegno la carta del diavolo in questo modo simile a questa comunque con questo personaggio metà uomo metà caprone e che rappresenta uno specifico bafometto che è una divinità pagana che secondo l'accusa ufficiale veniva venerata dai templari e per questa accusa vennero messi a a morte venne di sotto l'ordine dei tempi dei templari ed infine vorrei parlare del tetramorfo che è questo quattro simboli che troviamo ai lati della carta del mondo e della ruota della fortuna vedete c'è un'aquila un uomo un leone e un vitello sarebbe la stessa cosa qua e si chiama questa configurazione tetramorfo e fondamentalmente la rappresentazione dei quattro evangelisti dove il vitello rappresenta luca l'uomo rappresenta matteo l'aquila rappresenta san giovanni e leone ovviamente rappresenta san marco in ambito ermetico questi quattro simboli in realtà sono legati agli elementi i famosi quattro elementi delle che abbiamo nel nel nei quattro semi dei tarocchi ovvero il leone rappresenta l'elemento fuoco quindi legato ai bastoni l'aquila rappresenta ovviamente l'elemento aria quindi le spade l'uomo rappresenta l'elemento acqua e il vitello l'elemento terra e quindi pentacoli quindi è anche senso se ci pensate perché il mondo appunto è composto dai quattro elementi con lo spirito come quinto elemento che tiene tutto insieme al centro e così la stessa cosa abbiamo i quattro elementi rappresentati in questo caso dalla nella carta della ruota della fortuna a me sembra aver coperto un po tutti gli animali reali e fantastici in questo mazzo come vedete è un mazzo estremamente ricco di simboli e ricco di animali è una cosa molto tenera il fatto che metta anche questa piccolissima lumachina ai piedi del della della donna del nove di pentacoli perché appunto c'è un'attenzione ai dettagli in questo mazzo estremamente bella estremamente importante bene se trovate altri animali che mi sono sfuggiti fatemelo sapere scrivetelo nei commenti se vi è piaciuto il video vi invito a mettere like e scrivetevi al canale se non l'avete già fatto soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi video e se avete domande qualsiasi tipo relativi ai tarocchi scrivetele pure nei commenti in modo da potervi rispondere tranquillamente e noi ci vediamo presto ciao ciao